Chi sono? Che cosa ci faccio qui? Sono Elena Beccore, insegnante di yoga. Da quando ho iniziato a farmi certe domande, ho capito che tutto quello di cui avevo bisogno era già dentro di me. Dopo ripetute difficoltà ed ostacoli, ho creato un programma per seguire le persone guidando le verso la realizzazione dei loro obiettivi, permettendo loro di essere ciò che vogliono. Le cose sono cambiate quando mi sono chiesta chi volevo essere, prendomi per mano e diventando l'adulto di cui avevo bisogno. Lo yoga mi ha permesso di creare una nuova versione di me stessa, sprigionando forza, autodisciplina ed è quello che oggi voglio trasmettere a te, che stai cercando quel cambiamento da tempo. All we do is hide away. All we do is, all we do is hide away. All we do is chase the day. All we do is, all we do is chase the day. All I did was fail the day. All I wanna be is in whites and waves. All I did was fail the day. All we do, all we do. All we do is, all we do... Grazie a tutti.